L'opera Cardinal Ferrari di Via Boeri a Milano ha presentato il suo nuovo volto dopo i lavori di ristrutturazione che ne hanno modificato i locali rendendoli più moderni, sicuri e al passo con i tempi. Questa realtà esiste dal 1921, prima nella sede di Via Mercali e poi in questa struttura dal 1949. Sono state rifatte la mensa, la cucina, le dispense, l'area servizi e il centro diurno. Il costo dei lavori ammonta circa 3 milioni di euro finanziati dai privati, Fondazione Cariplo, Fondazione De Agostini ed è nel cuore. Era il sogno di una vita, è cominciata tanto tempo fa, la casa non dico crollava ma la casa aveva bisogno di tante restaurazioni, non avevamo le uscite di sicurezza a posto. Quando abbiamo messo mano, come sempre capita, abbiamo scoperto che non una piccola cosa, bisognava rifare tutto. Allora con le possibilità del momento siamo partiti, in tre step abbiamo rifatto tutto. L'opera Cardinal Ferrari dà assistenza ogni giorno dalle ore 8 alle 17 a circa 200 persone che vivono nell'indigenza e che qui, oltre ai pasti, trovano bagni, docce, indumenti puliti e anche cure mediche. Ogni anno per l'assistenza occorre almeno un milione e mezzo di euro, soldi che arrivano grazie a donazioni private e ovviamente indispensabile è l'apporto di decine e decine di volontari. Se uno resta senza lavoro, perde la casa, perde tutto, il tentativo è non solo dar da mangiare ma rispondere a tutte le esigenze e tentare la soluzione laddove è possibile, casa popolare, recupero di lavoro. L'opera assiste anche 200 famiglie a domicilio e dispone di una struttura per ospitare i familiari di persone che si trovano in cliniche e ospedali.